Ciao, sono Vittoria e sono di Bagnacavallo. È da un po' di anni che si cercano di trasferirmi a Faenza perché amo proprio questa città, soprattutto le prime colline, e finalmente sono riuscita a trasferirmi qua in Borgo, in una casa che mi piace molto, grazie appunto all'agenzia che mi ha contattato e mi ha aiutato in questa ricerca. È Alan che ha conosciuto me. Cercando casa a Faenza ho guardato dei soliti gruppi di Facebook, compro, vendo, affitto, così ho lasciato un post e sono stata contattata appunto dall'agenzia e così ci siamo conosciuti perché avevo questo appartamento che era interessante. Beh, sicuramente la tempestività, la precisione anche nel fare le cose, al di fuori anche degli incontri comunque c'è disponibilità, quindi questa è una cosa che mi fa piacere. Sono stata seguita in tutte le cose, quindi non solo l'appuntamento, la ferma del contratto, ma anche appunto dubbi, risolvere di dubbi piuttosto che altre cose, anche a livello burocratico, magari di bollette o di altre cose. A me è stato a trovare casa in un posto dove da tanti anni volevo trasferirmi e questa per me è una grande vittoria. In PV ho trovato una casa dove sto veramente molto bene, sono molto contenta, è vicino al lavoro, quindi si è creata proprio una situazione ottimale per me e anche il fatto che sia in zona borgo dove la cercavo, vicino alle colline, cioè Alan mi ha reso felice, a dire un po' a tutti e perché? Perché comunque con il suo lavoro è in grado di soddisfarti, diciamo a me l'ho soddisfatto al 100%, quindi sono contenta e lo consiglio.